E adesso il premio, il premio, il secondo classificato di dire il premio E adesso, il più bello del torneo con il Tantino Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E adesso il capo cannoniero del torneo, Francesco Managlia! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!